Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. In genere si comincia non dai ringraziamenti, invece oggi in maniera insolita voglio cominciare con i ringraziamenti. Sono doverosi perché oggi siamo ospiti di una libreria, una libreria di mie care amiche, ma che consiglio a tutti, bolognesi o anche chi si recasse a Bologna, una passeggiata qua è doverosa, la libreria Trame di Via Goito, la quale ci ospita e che sicuramente garantisce competenza, passione e anche una buona dose di allegria per chi si occupa di libri e li ama. Il secondo ringraziamento va all'Associazione per Vilma, grazie alla quale questo incontro è possibile, che definirei un bel consesso di belle menti, persone che amano i libri e che soprattutto si riuniscono nel nome di Vilma Lanzarini, che nella nostra città è stata una delle veramente anime del romanzo giallo. Parliamo di un giallo oggi e quindi sono molto contento perché c'è tutto un collimare di situazioni favorevoli e ne parliamo perché l'ospite è Carlo Flamini, il quale è non certo un outsider della letteratura perché ha scritto già 3-4 romanzi, io più o meno non li ho letti tutti, quindi posso parlare anche a ragione veduta, ma è soprattutto a diretto servizio di fisiopatologia della riproduzione della clinica ostetica ginecologica di Bologna, ma si occupa di bioetica e soprattutto è un grande amante della sua professione e alla quale ha dedicato moltissimi testi scientifici o anche divulgativi che sono ancora tutti facilmente reperibili e tutti assolutamente consigliabili. Come tutte le volte che facciamo queste conversazioni iniziamo chiedendo ai nostri ospiti di introdurci al libro che guiderà questa conversazione e che è uscito proprio in questi giorni, aprile 2008, per l'editore Sellerio di Palermo e questo un tranquillo paese di Romagna. Chi e cosa incontra chi entra in questo tranquillo paese di Romagna? Tanto grazie per le sue parole gentili. Dunque, incontra innanzitutto il dialetto romagnolo, che in questo ultimo libro è meno frequentemente presente, ma che nei due gialli precedenti che avevano gli stessi protagonisti erano molto presenti. Anche perché io ho una visione del dialetto, credo che sia condiviso da molti, soprattutto da queste parti, il dialetto è stata la mia prima lingua, è stata la lingua dei giochi, la lingua delle prime connessioni, i links che fai. E' dialetto contemporaneo questo. E' dialetto contemporaneo e quando uno impara una seconda lingua, nel mio caso l'italiano, dopo ha qualche difficoltà, perché io riesco a dire delle cose molto più piene di significati in una brevissima espressione romagnola che in una lunga e concitata espressione in lingua. Il che vuol dire che spesso mi trovo in difficoltà e come fanno i contadini romagnoli quando sono costretti a parlare in italiano con i signori dimagrisco. Cioè dimagrisco il discorso. Lo faccio più... Lo leggerisco. Lo leggerisco perché lo contraggo. E invece faccio sempre un esempio perché è un esempio che conoscono tutti e l'hanno voluto sotto gli occhi in un film bellissimo di Fellini a Marcord, dove c'è a un certo momento una scena stupenda, c'è una sdora che sta attaccando dei panni al sole e ha due bambini, uno piccolissimo, come una delle cassette che si usavano per l'uvo una volta, che sta lì dentro, e poi un altro che è piccolo piccolo, comincia a camminare, ma trampalla come si dice ancora, ha le bracche che gli stanno cadendo, va a prendere un sassone enorme che riesce con fatica ad alzare e poi si avvia molto deciso verso il fratellino dentro la cassetta. E che cosa vuol fare? È chiaro. E la madre si avvicina e gli dà uno schiaffo sulle mani, gli casca il sasso, i calzoni, gli casca tutto, trampalla ancora l'indietro che sta... e poi gli dice a tocno su, che tradotto qui, no, exabrutto, vuol dire che ho riconosciuto, ha capito come sei fatto. No, 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 in dialetto vuol dire ho capito adesso come sei fatto, brutta carogna, ma con me non ne fai più della giusta, vedrai come cambiano le cose, vuol dire tutto questo. Cioè io che mia madre mi dicesse a tocno su sei stato terrorizzato, perché non era soltanto un'accusa sul comportamento e il riconoscimento di un errore, ma anche una promessa di guai per l'avvenire. Cioè il dialetto è fatto così. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'ambiente. Io sono di famiglia contadina, i miei nonni facevano i contadini. Noi abbiamo nella nostra famiglia una serie di storie che io racconto perché non voglio che vadano perdute, che sono storie molto belle, che danno una... belle, alcune sono drammatiche, danno un'immagine di che cos'era la campagna e di che cos'era soprattutto la vita dei contadini. Era una vita molto povera, di persone che vivevano finiti, ma spesso si sovrapponevano poco. Non c'era molta amicizia per i contadini, c'era più spesso invidia e competizione. E c'era soprattutto questa frequente intromissione dei sentimenti, per cui odi che poi si tramandavano i figli. Era una situazione molto complessa. Io me ne sono dovuto occupare per altre ragioni, che ricordo perché è interessante, perché abbiamo fatto con l'Unione di Donne Italiane un'indagine sulla vita delle donne romagnole all'inizio del Novecento ed è venuta fuori una serie di cose di grande rilievo. Io non so quanti sanno che all'inizio del Novecento la limitazione del numero di figli nelle famiglie romagnole si faceva, spesso con l'infanticidio. Perché il problema era che le donne sapevano che di aborto si moriva, se non si moriva si diventava spesso incapace di lavorare, in una famiglia di contadini se la Dora non lavora è dura assai. E era più conveniente sacrificare l'ultimo nato. Detta così, capisco quanto sensazioni di disagio può creare, ma il problema è per prima mettersi nelle condizioni di queste persone, che dovevano far sopravvivere sei figli. L'arrivo del settimo ne avrebbe uccisi sicuramente alcuni. Allora la salvaguardia degli esistenti esigeva che... Qui mi inserisco io perché dalla sua premessa mi distacco un po' perché questo romanzo in realtà è intriso di contemporaneità. Il suo background, la sua base di cultura, di storia, di tradizioni romagnole, sicuramente poi mi sono organizzato qualche altra domanda in seguito. Ma questo romanzo è calatissimo nella contemporaneità perché parla di un argomento assolutamente drammatico e oggi più che mai tristemente sulle prime pagine di tutti i giornali e dei telegiornali, ahimè, la pedofilia. Ecco, come mai inoltrarsi in un argomento così duro? Qual è stata la spinta che l'ha scelta? Ma vorrei anche fare un altro passo ulteriore perché in fondo il suo romanzo così, di argomento così cupo, si basa su un lavoro del linguaggio di cui parleremo più a fondo, della ricerca delle tradizioni che invece elabora il grottesco, c'è moltissima ironia. Come è riuscito a... sembrano due cose che stanno male assieme. Come è riuscito a mantenere il suo spirito nella scrittura così ironico, parlando anche di un argomento così importante e doloroso? Ma intanto il problema della pedofilia mi ha sempre molto intrigato perché, insomma, dipende con quale sguardo lei lo considera, ma insomma resta sempre un'aggressione spaventosa, all'innocenza, insomma muove, evoca risonanze affettive molto forti in tutti, credo che sia inevitabile, ma per una serie di ragioni dovrebbe essere considerato anche con un minimo di compassione perché dietro questo orribile delitto, quello di distruggere l'innocenza di un bambino, molto spesso ci sono motivazioni forti che vanno comprese, non dico perdonate, ma capite. Io ho sempre pensato che la compassione dovrebbe essere il sentimento dominante per la convivenza degli uomini. Allora io ne volevo parlare, ma al contempo non volevo farne un libro falkneriano, insomma, volevo... Sì, cupo, così. E come mi è successo anche in altri libri, ho cercato poi che si sia riuscito il lettore di alleggerire tutto con l'ironia. Credo che questo, in un altro libro che aveva gli stessi personaggi, per esempio ho descritto un drammatico combattimento fra due Ercoli che si fanno del male, uno alla fine uccide l'altro, tenendo presente una vecchia poesia in latino di un poeta francese che descrive il combattimento di Ercole con un fiume, il fiume che poi ha sembianze di animale, ha un corno e questo toglie drammaticità, questo assegna in modo... anche qui la fine del libro che non racconto però insomma... Diciamo con una battuta. Sì, insomma, c'è qualcosa che... Perché altrimenti, mamma mia, i temi sarebbero veramente grevi. Devo dire che non l'ho affrontato con superficialità, almeno nella preparazione, io scrivo i libri molto rapidamente però ci ragiono sopra molto e mi sono preso la briga di studiare l'argomento e quindi di farmi un'idea personale. Mi inserisco perfettamente, allora a questo punto con la mia domanda, perché la sua documentazione è sicuramente visibile, anzi ci sono alcuni passi che sono quasi saggistici per introdurci a una lettura più attenta, come dire, noi non stiamo parlando di cose da due soldi e in particolare per questo discorso è così triste, devo dire che il ruolo della Chiesa in questo romanzo è tutt'altro che rilevante, ma più che la Chiesa, direi tutte le Chiese, non ci fanno una gran figura. E mi permetto di leggere qualche riga che mi piace sempre molto, citare l'autore con l'autore presente. Sentite cosa scrive Carlo Flaminia, pagina 133. Secondo alcuni il problema riguarda quasi esclusivamente i preti cattolici, ai quali viene imposto il celibato, che fanno voto di castità e sono più tolleranti nei confronti dell'omosessualità. Secondo altri il problema è diffuso tra tutte le confessioni e riguarda con uguali percentuali episcopali e avventisti percentuali, quindi ne si è documentato. Addirittura ci sono molti pedofili tra i mormoni, che di tolleranza per l'omosessualità ne hanno ben poca. A me sembra che questa storia del voto di castità sia una semplificazione eccessiva. È invece possibile che il problema dipenda dalla struttura di molte Chiese, piramidale, gerarchica, un sistema che tende a proteggere i propri rappresentanti quando vengono attaccati dall'esterno e che consente ad alcune pecore nere di sentirsi protetti e tutelati, eccetera, eccetera. E il pezzo finisce con c'è un anticlericalismo latente in molti settori della società, negli Stati Uniti come da noi, e la Chiesa dovrebbe non solo interrogarsi sui problemi morali, dovrebbe chiedersi perché questo anticlericalismo esiste e di cosa si nutre. Qui non c'è una domanda, c'è la richiesta di un commento. Il bisogno di fare questo piccolo, è una paginetta bruciante, fulminante, con un passo lievemente saggistico. Anche perché mi stavo avviando verso una descrizione che in qualche modo risulta da qualche parte, e poi risulta dal racconto un pochino più ottimistica. Il racconto che ho letto, fatto da molte persone che sono state accusate e si sono dichiarate colpevoli e pedofilia, è un racconto intrigante perché raccontano di questi loro episodi come di episodi di amore esagerato, un amore che cerca la perfezione addirittura. E io credo nella sincerità di molte di queste persone, non può essere che sono soltanto dei luridi vermi schifosi, insomma, si incontrano anche persone... Il sfruttamento probabilmente lo è. Persone che hanno sbagliato, che poi si consumano nel tentativo di ottenere il perdono, ma che questo perdono lo vedono allontanarsi perché rimane dentro di loro questa insana, folle passione. Ma si ritengono in qualche modo i veri custodi dell'infanzia, addirittura c'è questa capacità di impersonare, di prendere le vesti del personaggio opposto, del custode dell'innocenza, di fare di questo atto, che è un atto sessuale, invece un atto purificato, un atto d'amore, un atto di gentilezza, un atto che riunisce al bambino in modo che nessun genitore può neppure immaginare. Era molto pericoloso e ho preferito dare dei dati concreti, d'altra parte questi sono dati che sono... Alla portata di chiunque. Alla portata di chiunque, non sono difficili da ottenere. Tra l'altro io non sono un anticlericale, cioè, no, adesso le feste le ho detto troppo. Mi faccia solo dire questo, il protagonista che si chiama Primo, del protagonista di questo romanzo che si chiama Primo, si dice che è una natura geograficamente anticlericale, e tra parentesi si scrive, sa, la Romagna. Insomma, è il suo protagonista o è il suo autore questo che... Dunque, è vero che tutti si descrivono nei libri, no? Quando uno scrive un libro si dice che io... Io ho fatto una scelta che non riguarda soltanto me, lei mi trova, però mi sono suddiviso. E anche molti personaggi, anche antipatici, terrorizzato dal fatto che si potessero riconoscere, li ho parcellizzati e li ho inseriti, questo difetto e l'altro difetto, in tanti differenti personaggi, in modo che si riconoscono sicuramente e mi odiano, e questo mi riempie di contentezza, ma... Soprattutto se ne stanno antipatici, se ne stanno odiati da chi si odia. Ma non mi sono soddisfazione straordinaria, però non mi possono portare davanti a un giudice perché le fadiga. No, ma siccome il mio amico fraterno, Corrado Merico, quando ho detto che non sono anticlericale, mi ha guardato e mi ha fatto il gesto del Pinocchio, devo dire, bisogna intendere cosa vuol dire anticlericale. Io sono anticlericale nella misura in cui esiste questo clericalismo invadente, ecco, in questo senso. Ma, ecco, non ho niente contro la Chiesa, ho grande rispetto per le religioni, non credo, ma questi sono fatti miei, insomma. Dovrebbe essere anche una cosa che non riguarda nessun altro se non me. Invece temo che non sia così. Dovrebbe invece la Chiesa... Oggi Fini ha parlato alla Camera e ha detto il paese è laico, la laicità è importante, un ruolo fondamentale, e il problema fondamentale della laicità è riconoscere l'importanza del cristianesimo. Se vuol dire? No. Cioè, non ha mica senso. È vero che si è riscattato dopo perché ha detto il mare nostrum e mi ha riportato ai miei dieci anni, quando ero badilla e sentivo il federale che nelle riunioni oceaniche, nella piazzetta dei Beati a Forlì, mia madre mi mandava poco perché aveva sempre paura che prendessi freddo, troppo caldo, così. Ma in quelle occasioni in cui sono stato a sentire i federali che mi dicevano che Mare Nostrum era Nostrum, sono diventato antifascista. Quindi ben venga anche questo richiamo al Mare Nostrum, se ha questo risultato finale. Non so che cosa voglia fare nei fini del Mare Nostrum, lo potrebbe lottizzare. Speriamo di no, che non se ne appropri troppo. Ecco, vorrei fare un passo avanti, cioè entrare proprio nel laboratorio dello scrittore perché nonostante tutto questa è una rubrica letteraria, lei è il centonovesimo ospite, pensi un po'. E parlare in particolare del suo stile che è molto connotato, caratterizzato. Oltre alla gradevolezza ci sono anche alcune cose curiose. Lei ha molto questa abitudine di rivolgersi confidenzialmente, direttamente al lettore. Proprio per dire, vedi, succede questo. Ecco, ed ha quasi come un aspetto di oralità, di racconto orale al suo scritto. E' molto diretto, infatti. Come mai questo desiderio di... E' chiaro che scrivere è come un cercare di comunicare, ma questa visione diretta per chi scrive Gialli non è molto solita nella letteratura contemporanea. Una bellissima domanda. Dunque, quando io ho comitato a scrivere i primi libri, a chi racconti, così, ho pensato cosa mi sarebbe piaciuto, come mi sarebbe piaciuto vederli progredire, ecco, da soli. E allora, il mio riferimento è stato a quella di Trebbi. Un piccolissimo Trebbi si teneva anche a casa dei miei nonni. La mia nonna sapeva leggere, contrariamente a suo marito, e leggeva sempre lo stesso romanzo. Nella stalla, tra l'altro, è una cosa strana, io sono stato poche volte, ma la stalla aveva stranamente un buon odore. Non è così, ma... Erano i libri, era sicuramente il libro romanzo. La sicurezza di stare lì al caldo, insomma. Le sensazioni più belle che ho della mia infanzia sono i rumori sommessi, le voci sommesse delle donne quando ci facevano il bagno, che giravano silenziosamente per casa, sempre molto rapidamente, ma silenziosamente, è una sensazione di grande sicurezza personale. Qui sono al sicuro. Mia nonna leggeva, credo sempre lo stesso libro. Io ho creduto per anni che fosse un libro, ma non era quello invece, ma insomma non sono stato capace di riprendere. È una storia terribile di una giovane donna brava, buona e assolutamente intatta che un giorno scopre di essere gravida. Io pensavo forse di Carolina Inverlizio, perché lei scriveva roba così. Stile era quello. Ma invece no, non c'è fra i suoi titoli. E perché? Come mai è successo? Perché ha fatto il bagno in una mastella, dove prima un porcaccione si era liberato dei suoi semini o delle bestioline della gravidanza, come diceva la nostra suora del laboratorio. E io poi non so come si vada a finire questa storia terribile. So che molte ragazze della mia famiglia, quando si trattavano di fare il bagno al mare, erano perplesse. Insomma, guardavano chi c'era. E beh, è anche giusto. Ecco, allora il ricordo più bello che ho era del fatto che, quelle pochissime volte che l'ho sentita, mia nonna intercalava, cioè leggeva un po', ma poi parlava con quelle poche persone che stava, commentava, diceva qualcosa di quello che aveva letto o diceva la sua opinione personale. E mi dispiace oggi di non averla sentita di più, anche se immagino che diceva sempre le stesse cose, alla fine forse non ho perduto poche. C'è sempre lo stesso romanzo. Lo stesso romanzo. Adesso mi viene anche il dubbio che in realtà non sapesse leggere, ma lo sapesse a memoria. Anche possibile. L'avessi imparato prima. È possibile. E qui abbiamo visto, ha svelato non solo poi, qui gli stimoli non solo per la sua professione, viene fuori il fisio patologo della riproduzione, oltre che il romanziere. Ma c'è un'altra scelta curiosa, questa dei capitoletti iniziali di ogni capitolo con le punzecchiature per il lettore. Qui leggerai questo. Anche questa è una pratica che qualche volta si legge, dottor, ma più oltre. Nel libro dell'Ottocento. Nel libro dell'Ottocento c'era, l'ho copiata da loro, un sunto però intrigante. Le punzecchiature, dici, ah allora adesso... Se vuoi sapere che cosa vuol dire questa cosa devi leggere il capitolo. Bene, bene. Allora, vorrei prendere ora il discorso importantissimo sul linguaggio, perché è stata veramente gradevole la lettura, anche perché lei si inoltra nelle magie del suo dialetto originario. Un grosso lavoro sul linguaggio, ad esempio, l'ha fatto anche Lucarelli con il suo ultimo libro. Quindi c'è un nuovo interesse, il che credo sia aumenti di qualità la letteratura gialla, noir, non so neanche come chiamarla, poliziesca, come viene detto, che è diventata molto di moda, ha perso un po' di qualità. Invece questo nel suo libro non succede. E mi piacerebbe, ovviamente, leggerei tutte le cose più importanti, ma non è il caso. Vorrei solo ricordare che potrete leggere in una di queste graziose divagazioni linguistiche la declinazione in 35 varianti del nome Giuseppe. Quindi anche qui la divagazione non può che essere divertente. Ecco, già un po' ha premesso nella sua introduzione che soprattutto il ricordo del suo essere, come è cresciuto, l'ha portato a utilizzare questi schemi. Ma anche qui il lavoro si inserisce nella storia. Non è mai la divagazione fino a se stessa, come si nota in certe altre cose. È un personaggio del libro, il linguaggio. Ci dica come lavora su questo linguaggio. È solo un ripescare dalla propria memoria? Molto ripescare dalla memoria. E poi tenere conto di com'è veramente il linguaggio dei contadini romagnoli, che si basa moltissimo su frasi fatte e modi di dire. I quali modi di dire molto spesso riescono persino ad alleggerire o a drammatizzare delle situazioni nelle quali il colloquio sta diventando più pesante o che so io. Io ho persino inventato un modo di dire. Quando abbiamo perso il comune qui, io ero stato capolista dei democati di sinistra e quindi fui molto criticato. Non c'entravo molto. E Folena venne a farci, ci diede una gran sgridata dicendo che avrebbe chiuso il partito, che avrebbe commissariato. E poi andavano a parlare al microfono tante persone che dicevano hanno perso, cioè si toglievano dal mucchio. L'hanno perso. Io non volevo intervenire, ma tutte queste persone che si toglievano dalle responsabilità mi irritò. Allora intervenne, dissi a Folena cosa pensavo di lui, che non gli piacque. E poi dopo dissi, poi guarda, non dare retta a tutta questa gente, perché c'è un vecchio proverbio romagnolo che mi sono inventato lì, che dice che Quatt che più pataccaus c'è me fura, fura un'era più posto. Lo abbiamo capito benissimo. Perfettamente carico. E il giorno dopo Matteucci lo usò, pensando che fosse veramente un... Lo usò in un discorso che fece... I modi di dire tra l'altro consentono di dire cose terribili, terribili, chiamandosi un pochino fuori proprio, usando... Cioè senza venirne completamente coinvolte. Come se lo dicesse qualcun altro... Sì, perché... Anche questo è un racconto che ho fatto molte volte, ma... Lo faccio in modo da non offendere nessuno, perché potrebbe essere pericoloso. Io avevo una zia cattiva. Cattiva. Che diceva cattiveria a tutti, insomma. Diceva a te sei cornuto. Perché la verità l'ho del Dio, questo era il suo principio. Tanto che in una di queste verità sfavorevoli io mi ho offesi e non ci vedemmo più per un po' i seppi, che aveva avuto un'emoresia cerebrale, era stata male, è stata tornata a casa. E decisi di andarla a trovare e portai dietro quella che in quel momento era la mia fidanzata. E la trovai in condizioni molto brutte, muoveva una mano con l'altra, aveva la bocca tirata. Insomma era evidentemente uscito da una crisi molto forte, ma era cattiva come prima. Guardò la mia fidanzata che evidentemente non le piacque e poi disse... Poi ti fai come la mosca d'orvo, ho lavorato e si puse solo una merda. Ecco, il valore del comico che il professore riesce così brillantemente a comunicarci. Vorrei anche io farvi un'altra citazione, sempre da lui, dal suo libro. Proverbio, uno dei personaggi, si chiama Proverbio, che sono la importanza dei soprannomi anche in questo libro è straordinario. Quella sera in particolare ritirò fuori la sua vecchia intenzione di chiamare il prete e abbracciare la fede appena si fosse accorto che la morte stava per portarselo via. Lo scopo era quello di risparmiare un ateo, erano così pochi, e far morire al posto suo un cattolico, erano tanto antipatici. Ecco, quanto è importante il comico per cavarsela? Sì, lo è certamente, poi non bisogna neanche, è come il pepe insomma, bisogna saperne usare poco. Lo scopo, lo scopo, lo scopo, così. Invece, più importanti i nomi, ho cercato anche di spiegare, i nomi sono una cosa straordinaria in Romagna. In casa mia nessuno si è chiamato fino a poco fa col nome, vero? Perché il nome del batteggimo, l'enodisgnur, è il nome dei ricchi. Allora mio padre Alberto si è sempre chiamato Alieto, mio zio Amerigo Adriano, mia zia Viera Giuseppina, tutti i nomi cambiati. E mia sorella che è qui si chiama Adriana perché l'ha tenuto a battesimo mio zio Amerigo. Detto Adriano. Fantastico, fantastico. Sentite allora a proposito anche delle abitudini. Un bambino che si ammala di poliomilitie può finire con l'essere indicato come Ezop. E questo può diventare il suo soprannome, ma può anche accadere che la sua casa finisca con essere chiamata la Cadezop, che il soprannome passi in blocco alla famiglia e che il più grande dei suoi figli, noto campione di maratona, si chiama anche lui Ezop dopo la scomparsa del padre. Quindi insomma tutto è possibile. Adesso dico una cosa leggermente volgare, ma a Forlì c'è… Siamo online e non sulle tv della rete nazionale. Insomma, non so come addolcirla, però vi dico come si può addolcire. A Forlì c'è stato per moltissimi anni un unico luogo dove si andava volentieri a mangiare, che si chiamava Pirit Kulrot, che le signore dicevano andiamo da Pierino Dallano Infranto, perché sembra che non ci fosse né un problema di omosessualità né di vergogne familiari, ma di uno dei primi interventi per emorroidi subiti da un cittadino forlivese. Dopodiché però questo sventurato ha ceduto il ristorante, ma anche il nome ai familiari. Quindi il pronipote che stava benissimo di sedere si chiamava anche lui Svanit Kulrot, insomma il nome era quello. Ecco, però sì, benissimo, sappiamo tutti che ci divertiremo nella lettura di questo romanzo, ma è un romanzo importante, è un romanzo che ha assolutamente al suo interno tanti registri, tanti motivi di riflessione e come abbiamo anticipato prima, gli argomenti sono molto importanti. E devo dire che una delle pagine che mi ha più colpito sono alcune paginette all'inizio del capitolo 14, vicino dove c'è una riflessione sulla sofferenza umana e sul significato del dolore, come era da tanto che non leggevo. E guarda caso, lei fa una esegesi laica, se mi permette questa forzatura, del libro di Giobbe. Queste pagine secondo me sono assolutamente di valore, io che leggo molto, lei mi parlava prima di gente che legge quattro libri a settimana, io forse quasi, devo dire che era da un po' che non leggevo qualcosa di così profondo, importante, che mi toccasse. Ecco, assolutamente la lettura è doverosa, oserei dire, perché nel paese in cui il giallo, il noir, il poliziesco, insomma tutte queste definizioni che praticamente sono un'unica definizione, ha perso un po' di spessore, secondo me, che sono un giallista. E riusciamo a trovare per ogni libro che ci piace almeno tre o quattro libri che scorrono via un po' troppo leggeri. Non basta mettere un morto in un libro insomma per scrivere una trama poliziesca o gialla. Qui c'è quel passo in più che ci fa capire quanto il romanzo giallo non sia in realtà una categoria. È da far uscire dalle sue scatole, dai contenitori in cui in qualche modo gli editori cercano forzatamente di introdurla, ma questo è un romanzo romanzo, insomma, che ci deve portare a una lettura divertente e profonda, che credo sia una delle cose più rare da ottenere al giorno d'oggi. Io vorrei concludere con una curiosità proprio personale. Lei ha già scritto più romanti e è anche noto come scrittore, insomma, pubblicato da Mondadori, eccetera, eccetera. Perché nel risvolto di Copertina non c'è minima cenno alla sua attività di scrittore, di romanziere? Parla solo del grande professionista? Perché credo che sia una scelta proprio del editor. Casuale non credo. Io non li corrego, non li vedo, li trovo già scritto. E pensi che... Gli scocciava a scrivere Mondadori, Baldini, Castoldi, su un risvolto di Copertina. Vede... Non è una scelta sua. No, no, io non metterei niente. No, l'unica cosa che mi secca di questa presa di potere di Luigi XIV, dell'editore, è il fatto che mi cambia sempre i titoli. Come si cambiano i nomi dei bambini in Romagna, lui mi cambia sempre i titoli. Con un titolo diverso questo libro. Sì, ma non solo. Io una volta ho scritto un libro per bambini, in cui cercavo di spiegare ai bambini come si nasce il problema. Davo delle definizioni, alcune mi sembravano anche carine così. E l'avevo intitolato Cavoli e Cicogne esclusi. Mi sembrava carino. È uscito con un titolo completamente diverso, secondo me anche meno idoneo così. Cioè mi ricambiano, non sono mai riuscito io a dare... A ottenere il suo titolo preferito. Sì, sì, però insomma... Va bene. Lo ricordo questo titolo che è Un tranquillo paese di Romagna, l'editore è Sellerio, il libro è appena uscito, appunto aprile 2008, assolutamente da non perdere. Ringrazio Carlo Flaminio che è stato con noi e io mi sono divertito tanto, molto più di tante altre volte. Gli chiedo, come al solito, di personalizzarmi il libro per la mia prestigiosissima collezione. Ringrazio ancora la libreria Trame e bolognesi o non che passate a Bologna, venite assolutamente perché trovate allegria, oltre che competenza, come ho detto prima. E comunque, se volete controllare le attività che la libreria fa con tanta brillantezza, info-libreria-trame.com. Analogamente, se volete mettervi in contatto con l'Associazione Per Vilma, che cura tante iniziative culturali per la nostra città, mandate una mail a pervilma.chiocciolalibero.it. Grazie ancora. Poi, chiudiamo con la nostra perla abituale, che oggi ho scelto miratamente, visto il nostro ospite. È una lettera di Osip Mandelstam che scrisse al padre che gli aveva tenuto un rabbuffo rivoluzionario e come tutti i padri accusava il figlio di essere un egoista. Mandelstam risponde al padre in questo modo, dice, l'essenziale papà è creare cose letterarie, dove piassarle invece non fa nessuna differenza. Non prendo in mano la penna per delle sciocchezze di vita quotidiana, bisogna lavorare allegri e bene. Credo che sia una lezione per chi scrive e che Carlo Flamini ha mantenuto alla perfezione. Grazie e al prossimo incontro. Grazie. Grazie.